Sono Benetta Bascafè, studio filosofia a Milano, vengo al meeting da tanto tempo, da quando ero piccola, perché non so pregiare gli anni, quando ho potuto ho sempre fatto volontaria, ho fatto le pulizie, ho servito in un ristorante, ho fatto il servizio d'ordine e altri lavoretti così. Perché vengo al meeting? Perché da una parte mi è sempre molto piaciuto spendere nel tempo delle mie vacanze per costruire una cosa più bella, dall'altra parte è sempre un momento di incontro per cui accresci la tua conoscenza, vedi delle mostre, senti degli incontri che magari non sentirei normalmente e sul titolo di quest'anno, l'altro è un bene per me. Secondo me è molto interessante perché è molto attuale rispetto alle questioni dei migranti e poi con la mia tesi nel senso che c'è una posizione interessante che innanzitutto l'uomo è chiamata una spiritualità. Bene, scusami. Tutto immediatamente l'altro può essere un bene. Ci vediamo in tutto.